Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Qualche settimana fa, qui sul canale, ho voluto immaginare un Jurassic Park europeo, ossia un parco, in stile John Hammond, che ospitasse solo specie originarie del vecchio continente. Vi consiglio la visione, se ve lo siete perso. Ebbene, oggi applicheremo lo stesso schema a un'altra regione del nostro mondo, una regione piuttosto esotica e per questo molto affascinante, l'Australia. Benvenuti quindi a Jurassic Park, Australia. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Un paio di note scientifiche prima di strutturare il nostro parco. Durante l'era mesozoica, l'attuale Australia rimase per milioni di anni attaccata all'Antartide, staccandosi durante il Cretaceo, ma rimanendo comunque molto più vicina rispetto all'assetto attuale. Ciò detto, iniziamo la selezione delle specie da includere nel nostro parco, partendo dai dinosauri erbivori. Il primo dinosauro che inserisco nel nostro Jurassic Park Australia è un esemplare dal nome un po' bruttino, Mutaburrasauro. Il Mutaburrasauro è un grande dinosauro erbivoro, poteva raggiungere i 7 metri di lunghezza, che visse nel Cretaceo inferiore, nell'attuale Australia settentrionale. Una delle caratteristiche più peculiari di questo dinosauro è la forma del cranio, che terminava in un muso arrotondato. La forma degli arti inferiori, forti e robusti, suggerisce l'idea che il Mutaburrasauro potesse muoversi sia su due che su quattro zampe. Spesso paragonato al più famoso iguanodon, alcuni paleontologi si sono domandati se il Mutaburrasauro possedesse o meno gli iconici pollici a culei. Purtroppo non possediamo resti fossili che rispondano a tale domanda. Inoltre, le somiglianze con l'Iguanodon sono state ridimensionate nel corso del tempo. La habitat del Mutaburrasauro erano le vaste foreste di conifere esistenti in Australia oltre 100 milioni di anni fa. Nonostante fosse più vicina al polo sud, l'Australia del Cretaceo possedeva comunque un clima tutto sommatomite. Insomma, il Mutaburrasauro ha il profilo perfetto per il nostro Jurassic Park Australia. Passiamo ora a un altro dinosauro erbivoro che visse grosso modo nelle stesse zone e nello stesso periodo del Mutaburrasauro, ossia l'attuale Queensland del Cretaceo inferiore. Mi riferisco al Minmi. Membro dell'infraordine degli Anchilosauridi, Minmi era un dinosauro corazzato di dimensioni tutto sommato contenute, visto che si attestava sui 3 metri di lunghezza. Dotato di una resistente corazza atta a proteggerlo dai predatori, Minmi possedeva anche delle peculiari spine e osse rivolte verso l'esterno. Il Minmi poteva anche contare su delle gambe piuttosto lunghe per gli standard degli Anchilosauridi. Ciò suggerisce che potesse correre a una buona velocità, puntando quindi anche sull'agilità per cavarsela contro i predatori. A differenza di altri Anchilosauridi, Minmi non possedeva l'iconica mazza ossea al termine della coda, ma va bene lo stesso. Anche questo erbivoro corazzato si merita un posto nel nostro Jurassic Park Australia. Nella lista degli erbivori australiani trova anche spazio nell'ellinosauro. Agile dinosauro che visse nel Cretaceo inferiore, nell'attuale stato di Victoria. All'epoca questa zona era situata oltre il circolo polare antartico, quindi l'ellinosauro può essere considerato a tutti gli effetti un dinosauro polare, adattato per un habitat piuttosto particolare. Sebbene, come già detto, l'area fosse più calda rispetto agli standard odierni, la vittoria del Cretaceo subiva comunque l'alternanza luce-buio tipica delle zone polari, con annessi soli di mezzanotte e periodi di buio prolungati, con un conseguente abbassamento delle temperature. Il fatto che diverse specie di dinosauro vivessero in questa parte del mondo ci suggerisce che possedessero sangue caldo. Purtroppo non possediamo tanti resti di l'ellinosauro. Le stime che si basano sul materiale disponibile attestano una lunghezza di un metro circa per questo dinosauro. Tuttavia diversi paleontologi sono sicuri che i resti appartenessero a un esemplare di giovane età. Di conseguenza è stata stimata una lunghezza massima di 3 metri. Partendo da alcune ossa del cranio, è stato inoltre ipotizzato che l'ellinosauro possedesse occhi piuttosto grandi, adatti per far fronte ai periodi di buio prolungato che abbiamo menzionato poc'anzi. Insomma, chi non vorrebbe un bel dinosauro polare nel proprio parco? Passiamo ora a qualche peso massimo australiano partendo dal diamantinosauro. Lungo fino a 15 metri, per un peso stimato di 15-20 tonnellate, il diamantinosauro visse anche lui nel cretaceo inferiore nell'area del Queensland e apparteneva all'infraordine dei sauropodi, ed era imparentato con i titanosauri. Le poche ossa di diamantinosauro suggeriscono che possedesse una corporatura tozza e robusta. Forse possedeva anche delle grosse placche e osse sul corpo. Benne più antico è il sauropode denominato Roethosaurus, che visse nel nostro amato Queensland, a questo punto avrei potuto chiamarlo Jurassic Park Queensland, durante il giurassico medio, circa 170 milioni di anni fa. Lungo all'incirca 15-16 metri e alto 4, il Roethosaurus era un sauropode primitivo e pesava fino a 9 tonnellate, ed è anche uno dei pochi dinosauri del giurassico mai rinvenuti in Australia. Una delle sue caratteristiche più riconoscibili era il collo lungo, più lungo rispetto agli standard di altri sauropodi. Questo dinosauro, diciamo più antico degli altri, non può di certo mancare nel nostro Jurassic Park Australia. Ma quando si parla di veri e propri colossi australiani, la medaglia d'oro va al gigantesco Australotitan, un sauropode lungo fino a 25 metri, o addirittura 30, ed ha il peso di 74 tonnellate. Anche i fossili di Australotitan sono stati rinvenuti, indovinate un po', nell'attuale Queensland. Australotitan visse attorno ai 90 milioni di anni fa. Le sue dimensioni imponenti lo tenevano al sicuro dai predatori. È altamente probabile che gli Australotitan vivessero in branchi, che si muovevano placidamente alla ricerca di vegetazione da mangiare. Sono sicuro che gli esemplari di questo colosso diventerebbero delle vere e proprie superstar per un Jurassic Park australiano. Visto che abbiamo citato i predatori, parliamo ora di qualche dinosauro carnivoro dell'Australia Mesozoica. Tra essi va sicuramente menzionato, e quindi incluso nel parco, il temibile Lighting Claw, il più grande predatore mai rinvenuto in Australia. Lungo oltre 7 metri, il Lighting Claw visse all'incirca 100 milioni di anni fa e sfoggiava un artiglio lungo 25 centimetri, posto sugli arti superiori. Secondo alcuni paleontologi, questo predatore sarebbe il capo stipite della famiglia Megaraptora, ma il dibattito è ancora in corso. Un altro celebre predatore dell'Australia è l'Australovenator. Il nome non lascia spazio a dubbi. Appartenente alla famiglia Megaraptoride, Australovenator visse circa 95 milioni di anni fa e poteva raggiungere i 6 metri di lunghezza per i 2,5 di altezza, rivaleggiando così con il Lighting Claw per il titolo di predatore più grande. Si ritiene che Australovenator fosse piuttosto agile, tanto da essere considerato il ghepardo della sua era. Anche questo dinosauro possedeva dei grandi artigli sulle zampe anteriori, perfetti per ghermire le prede. Entrambi questi dinosauri piacerebbero molto al pubblico del nostro Jurassic Park Australia, non ho dubbi in merito. Una curiosità, nel documentario del 1999 Walking with Dinosaurs, l'Australovenator veniva ancora chiamato con il nome di Allosauro Polare. All'appello manca però qualche predatore australiano capace di rivaleggiare con i pesi massimi, quali T-Rex, Giganotosauro, eccetera. Come mai? Semplice mancanza di fossili. L'esistenza effettiva di un predatore lungo più di 10 metri in Australia è supportata solo dal rinvenimento di alcune orme, ritrovate sempre, indovinate un po', nel Queensland. Il professor Romilio, paleontologo che ha eseguito le ricerche del caso, sostiene che queste orme appartenevano a un grande carnivoro assimilabile all'Allosauro. Ma niente ossa per corroborare tale ipotesi. Per non farci mancare nulla, nel Jurassic Park Australia ci sarà anche una bella laguna artificiale, dove nuoteranno placidamente degli esemplari di Umo Onasauro. Appartenente alla famiglia dei pliosauridi, Umo Onasauro era un rettile marino carnivoro vissuto circa 90 milioni di anni fa. Lungo fino a 2 metri e mezzo e dotato di un collo tutto sommato corto, Umo Onasauro si nutriva di pesci e altre creature marine, che poteva ghermire tra le sue fauci. Insomma, non era di certo un colosso dei mari, ma sicuramente farebbe la sua figura nel parco australiano. Un altro rettile marino australiano ben più grande e imponente era il cronosauro, che visse all'incirca nel Cretaceo inferiore, quindi sempre circa 100 milioni di anni fa. Appartenente al gruppo dei pliosauri, il cronosauro era un grande predatore marino, lungo fino a 13 metri e con un cranio allungato lungo circa 3, munito di grandi denti affilati perfetti per afferrare le prede. Anche i resti del cronosauro sono stati rinvenuti in Queensland. Le sue dimensioni lo rendono uno degli ultimi grandi pliosauri, paragonabile a altri pesi massimi come il liopleurodon. Tra le prede del cronosauro, oltre ai pesci, vi erano anche altri rettili marini, come ad esempio plesiosauri e itiosauri australiani. All'interno del nostro Jurassic Park Australia, il cronosauro potrebbe fare concorrenza persino alla superstar acquatica del Jurassic World di Masrani, ossia il mosasauro. Concludiamo la lista di specie con una creatura che non è né un dinosauro e nemmeno un rettile. Si tratta dell'anfibio preistorico noto come Colasuchus. Colasuchus visse circa 125 milioni di anni fa e poteva raggiungere i 4 metri di lunghezza. Il suo aspetto ricorda quello della salamandra gigante giapponese. Questo anfibio gigante era un predatore. La sua dieta includeva pesci, rettili, piccoli mammiferi e anche piccoli dinosauri, come il già menzionato l'ellinasauro. Dovendo fronteggiare il clima polare ed essendo una creatura a sangue freddo, è probabile che il Colasuchus si ibernasse durante la stagione fredda. Comunque una salamandra carnivora gigante ci vuole assolutamente nel nostro Jurassic Park australiano. Che dire signori, il parco ha preso ormai vita. Avrei potuto menzionare anche qualche altra specie, ma credo che ci sia già una buona varietà di esemplari. Ad ogni modo sono curioso di sapere le vostre opinioni e suggerimenti nei commenti qui sotto. Se questo video è stato di vostro gradimento vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale e perché no ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamento oppure super grazie direttamente su youtube. In alternativa paypal e tp, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!